Abbiamo discusso in assemblea per la prima volta dopo l'approvazione del tema dell'emendamento presentato dall'onorevole Moulet al decreto sport e come sapete è stato approvato alla Camera dei Deputati, anche in aula ora è passato al Senato e quindi abbiamo discusso poi delle conseguenze dell'emendamento e la Serie A quindi all'unanimità ha consapevole che sono partite le negoziazioni o comunque gli incontri, lunedì ci sarà una prima riunione delle componenti, ribadito la necessità che si vada verso un modello di maggiore autonomia, verso un sistema in cui le decisioni che riguardano la Serie A possano vedere quindi il parere della Serie A su questi argomenti e che ci sia quindi un significativo riequilibrio dei pesi elettorali e della rappresentanza negli organi direttivi così come indicato dall'emendamento che richiama anche la contribuzione economica delle diverse leghe. Per questa ragione sapendo che partirà lunedì con questo tipo di dialogo e di interlocuzione, poiché c'era la scadenza del termine che è lunedì per poter impugnare il regolamento elettorale approvato lo scorso lunedì 15 luglio in Consiglio federale, l'Assemblea sempre in unanimità ha deciso di impugnare il regolamento prima che scada il termine. Non è un atto stile, è semplicemente un atto di difesa tecnica perché con la scadenza del termine o lo si faceva entro lunedì oppure non era poi più possibile impugnare il regolamento elettorale che come sapete è il regolamento che approvato in Consiglio federale con il parere contrario di Serie A e di Serie B ha cristallizzato i pesi elettorali senza riequilibrio che invece è l'istanza che la Serie A porta da diverso tempo. L'impugnazione da avvio da punto di vista tecnico a un ricorso che sarà comunque presso il Tribunale federale nazionale quindi poi con un ITER ma abbiamo già detto che ove invece come tutti speriamo le interlocuzioni anche perché Federazione ha dato al momento ampia disponibilità in questo senso verso il riequilibrio che tutti auspichiamo il ricorso non sono richieste così precise perché innanzitutto è un pacchetto dove il riequilibrio presuppone quindi un aumento del peso in generale del settore professionistico quindi diciamo la percentuale di cui si è parlato maggiormente è il fatto che il settore professionistico nel suo intero è auspicabile che raggiunga la metà di quello che poi sono gli organi. Poi ci sono le istanze sulla maggiore autonomia rispetto sia all'organizzazione del campionato sia rispetto all'organizzazione della Lega e poi c'è il parere vincolante sulle delibere che riguardano la Serie A. Io quello che posso dire e quindi sarà un po' anche la prova a partire da domedì è che in questi anni a fronte dell'istanza della Serie A di avere un maggior riconoscimento le risposte sono sempre state positive sì certo sì quindi a questo punto siamo arrivati finalmente a poterlo fare qui si vedrà se effettivamente il sì certo era sincero o no. L'auspicio è che si risolva tutto il tempo c'è in tempo per poter avere un nuovo regolamento elettorale pesi più equilibrati e più equi. Il fatto che lunedì ci sia la presenza del Ministro Abodi è molto importante perché vuol dire che comunque parte un processo in cui le istituzioni che ringrazio ancora perché sono state molto vicine al percorso dell'emendamento Moulet quindi riconoscendo la giusta istanza della Serie A rispetto a riequilibrare il sistema federale il fatto che siano presenti all'incontro è un dato rassicurante perché comunque è il segnale che sono interlocuzioni serie che dovrebbero poi auspicabilmente portare a un miglioramento di tutto il sistema. Grazie.